Sta il commercio foggiano alla luce delle prossime festività natalizie soprattutto? Questa è una bella domanda, se si gira un po' per i negozi si vede che comunque si sta soffrendo, un po' dovuto al clima e quindi i negozianti stanno facendo fatica perché già hanno tutta la roba per l'inverno e invece siamo ancora attraversando un periodo molto caldo e quindi non stanno bene, stanno soffrendo. Alcune associazioni di categoria pare abbiano chiesto il posticipo dei saldi invernali, Confcommercio che dice? Anche noi pensiamo che se il settore dei negozianti ha questa intenzione noi saremo con loro perché è giusto che sia così. Ad un anno dalla riapertura dello scalo aeroportuale di Foggia ci sono risultati positivi nell'ambito turistico e economico? Quest'anno nel periodo estivo ci sono stati dei numeri molto importanti sul Gargano, anche dall'aeroporto di Foggia dobbiamo dire perché tra l'altro vediamo che i voli per l'Inate stanno andando molto forte, i voli per Malpensa comunque mantengono il loro standard dall'inizio e i numeri che sta facendo l'Umiwings sono totalmente diversi da quelli della business plan che avevano fatto inizialmente. Sono molto ma molto migliori rispetto a quello che erano le previsioni. Anche se poi Federalberghi che è una costola di Confcommercio dice il contrario. Dobbiamo parlare con Caizzi perché dice questo. Grazie a tutti.